bentornati a radio design ciao elisabetta ciao buonasera allora oggi iniziamo una nuovissima avventura abbiamo messo un po da parte sanguigna il programma podcast che potete comunque ascoltare nel nostro account spreaker che racconta in modo ironico la vita e le follie di degli artisti e abbracciamo un nuovo progetto oggi elisabetta raccontaci un po di questo progetto e come nasce il suo nome come ti è nata l'idea ok allora andiamo a parlare di loghi famosi i loghi iconici il nome del programma è brand pitt in omaggio al più fico di tutti i tempi secondo te ovviamente secondo tutto il popolo femminile e poi anche appunto questo nome è nato dal fatto che comunque brad pitt è un'icona e tu vedi la sua faccia e sai chi è lo riconosci così anche appunto per quanto riguarda i brand e quindi i loghi quindi si parla di loghi storici di loghi iconici e appunto si prova ad analizzare un po la storia dei dei loghi più famosi in sostanza bene se riuscite magari a vedere anche il logo che elisabetta ha realizzato fighissimo vi noterete che si tratta di una lattina una lattina una lattina che ci riporta subito a il brand di cui parleremo oggi giusto elisabetta esattamente di cosa parliamo oggi parliamo della coca cola la coca cola voi tutti conoscete la coca cola è una vera e propria icona riconosciuta a livello mondiale credo che sia il prodotto che sia presente in tutti i paesi del mondo non vorrei sbagliare ma mi ricordo questo facciamo un piccolo escursus storico per poi passare magari alla diciamo la parte che riguarda che compete più elisabetta c'è tutto il lato grafico la storia del logo io che ovviamente di grafica capisco veramente poco vi racconterò in breve qual è la storia l'origine di questo brand vi racconto velocemente che la coca cola sapete tutti nei stati uniti spesso viene definita anche cook ok nasce nel 1886 attenzione quindi stiamo parlando di più di un secolo non poca roba dal questo grandissimo farmacista che si chiama john steve pemberton credo di dirlo in modo giusto ad atlanta piccola digressione sono stato ad atlanta dai miei parenti americani mi hanno detto ma cosa c'è da vedere qui atlanta metto il museo della coca cola ecco che tristezza gli americani perché portare a vedere il museo della coltura sappiate che se finite ad atlanta potete andare a vedere il museo della coca cola ad atlanta non c'è altro credo ci sia un monumento dedicato ai padri fondatori quella cosa scolpita nella pietra con quelle quattro quattro faccione l'ho visto fa veramente cagare torniamo alla coca cola non sto scherzando è orrendo perché è bruttissimo è una cosa di pietra scolpì ci hanno messo una vita intera ma ho detto vabbè se questo è il museo più famoso è stato l'opera più famosa che può vedere stati bastami fermo potrei finire malissimo quindi qual è ma non si chiamava l'origine coca cola si chiamava aveva un altro nome era pemberton's french wine coke questo perché in onore di una bevanda che girava un sacco e tirava tantissimo in quel periodo in europa che si chiamava vino di coca o vin mariani perché mariani perché derivava proprio da il il nome da questo farmacista sempre farmacisti che producevano queste bevande un farmacista corso che non è il cane corso ma è magari fosse un cane a creare in realtà era un cittadino della corsica un francese che si chiamava angelo mariani e qui di mariani ce ne sono tanti nombri attenzione magari qualcuno ha creato anche qui qualche bevanda non lo sappiamo nemmeno detto questo perché si chiama appunto coca cola perché nasce da sostanzialmente da un mix della parola coca che proprio la che era proprio la coca che in quel periodo appunto da questa pianta tropicale si estreva questa sintesi che era la appunto la coca che poi divenne anche illegale sostanzialmente è la cola che invece deriva da un estratto di noci che si chiama cola quindi da qui coca cola va bene e ci siamo e ci siamo questa è la piccola e brevissima storia che vi che vi racconto ovviamente poi vi posso dire che la coca cola viene introdotta nel 1927 in italia quindi arrivò tipo decenni dopo come al solito come accade per l'italia e compare prima volta in latina nel 1960 mentre nel 1980 arriva nella sua bottiglia pet che non sta per animali pet e neanche per quell'altra cosa che state pensando tutti quanti cioè non è neanche peto ma sta per lattina di plastica bottiglia di plastica chiedo scusa la mia cultura si ferma qui e non male e adesso arriva la parte più seriosa del programma allora elisabetta di cosa parliamo allora parliamo di coca cola del logo della coca cola logo iconico che che noi tutti conosciamo anche il più profano nel mondo della grafica conosce il logo della coca cola come nicola palumbo esatto bravo che sarei io e in sostanza appunto questo logo però inizialmente diciamocela tutta non è che ci abbia messo tutto sto grande sforzo creativo progettuale perché il cugino il cugino è arrivato il cugino detto mo ti piazzo il logo il cugino che si chiamava frank robinson che è anche il nome di un giocatore di baseball ma non è lui infatti se cercate le foto c'è un nigga con la ma non è lui se cercate frank robinson coca cola vi compare un tizio con i baffi bianchi e i capelli scuri quindi anche un certo contrasto dal punto di vista cromatico c'è un tizio dalla faccia piuttosto simpatica che ha appunto creato questo logo l'ha creato appunto dicendo non me ne voto in ugaz perché obiettivamente era un prodotto da vendere in farmacia contro l'immicrania per cui ha detto vabbè sì non è che ci metto tutto sto grande sforzo lo faccio così com'è e invece poi ha fatto il bot è diventato famosissimo tra l'altro io quando ho mal di testa e prendo bevo la coca cola non mi succede nulla non mi passa però per la nausea funziona molto bene veramente sondagione vediamo se è vero scrivete nei commenti su instagram e facebook ebbene allora e appunto nel 1887 questo tizio appunto crea questo famosissimo logo questo tizio era anche il contabile dell'azienda quindi io non so se facesse proprio il grafico di professione però ci si è messo in sostanza sono passati secoli ma è sempre tutto uguale tipo risparmiamo sulla sul visual c'è quello che è della contabilità che usa gimp chiediamogli di fare un logo bravissimo ecco ecco fatto non so se avesse grandi conoscenze a livello grafico sta di fatto che però ha avuto due intuizioni piuttosto geniali piuttosto geniali allora la prima è stata quella di presentare la coca cola in forma appunto il logo della coca cola come logotipo logotipo perché perché appunto compare la parola intera e volevano puntare molto su questa parola perché nel mondo anglosassone è inusuale il fatto che ci siano due c e due a all'inizio e alla fine appunto della della parola coca cola e appena notato grazie per avermi fatto notare benissimo e appunto ha una certa sonorità dal punto di vista appunto per quanto riguarda il mondo anglosassone quindi funzionava e quindi ha detto sai che c'è io ti piazzo il logotipo voilà ma basta lo facciamo la prima intuizione la seconda è stata quella di utilizzare un font eh che si chiama spensieri a scritto che era molto in voga all'epoca in america perché era molto era femminile come mi capito beh è un po va bene allora ha utilizzato questo font perché ha detto è molto in voga in america quindi sarà anche visto in maniera appunto quasi familiare dalle persone appunto dell'america potranno avvicinarsi a questo brand perché appunto lo riconosceranno come parte del della loro appunto esperienza esperienza esatto ebbene quindi lui ha preso sto fonte c'è scritto coca cola ha leggermente arrotondato le lettere e voilà fight ebbene ebbene allora poi ne parliamo parliamone parliamone benissimo cosa è successo dici dal punto di vista cromatico sì il logo si presenta in rosso e bianco che è una bicromia che tu pensi rosso e bianco allora o è un irlandese oppure è la coca cola bang che è irlandese che c'ha il rosso ebbene un irlandese bianco in faccia rosso nei capelli non avevo intuito questa cosa del fisso ebbene rosso e bianco o irlandese o o coca cola benissimo in questo caso si parla di coca cola ok ebbene rosso perché appunto rappresenta la vitalità l'energia che questa bevanda appunto vuole esprimere esattamente passo l'altra parte vado avanti colpo di cena troppi caffè troppi caffè colpo di cena non ha sempre avuto quei colori boh ma mi stai dicendo davvero e come mai già perché ci sta ascoltando come mai perché prima era un logotipo nero su sfondo bianco quindi una cosa molto più classica e i colori sono arrivati poi negli anni sessanta come per la tv in sostanza no forse sono arrivati dieci anni prima più o meno più o meno in quel periodo lì dipende ebbene solo appunto alla fine del 1800 all'inizio del 1900 ho detto sai che c'è un po di colore ce lo buttiamo quindi ho messo un alone giallino attorno alla scritta così pare magro tentativo decisamente magro passati al rosso negli anni sessanta negli anni sessanta sono passati al rosso inscrivendo appunto il logotipo in una figura che ricorda vagamente un pesce almeno così dicono su internet a me tutto sembra meno che un pesce però se lo dicono loro a me vabbè haters vediamo esatto e allora riguardo oddio cos'è successo riguardo al logo si può dire che appunto per quanto riguarda l'evoluzione l'evoluzione è sempre stata abbastanza coerente nel senso non ha grandi avuto ha avuto grandi exploit creativi solo appunto è verso la fine del 1800 nel 1890 è stata inserita appunto è stata introdotta una versione totalmente totalmente non proprio però molto diversa dal logo originale una versione appunto che si potrebbe dire vintage un po' arzigogolata un po' strana che appunto è stata adottata solo per due anni poi han detto mi sa che non funziona quindi sono tornati alla versione originale logo che funziona non si cambia esatto bravissimo ebbene ebbene nel 1869 svolta attenzione la svolta svolta cosa è successo niente di particolare niente di particolare però per il logo della coca cola è stata una svolta non indifferente nel senso che hanno aggiunto la classica onda che si vede sotto appunto al logotipo e onda che appunto è anche detta dynamic ribbon a quanto pare anche un nome quell'ondina lì e appunto nel corso nel negli anni seguenti più che non il logotipo stesso ha subito una variazione proprio l'onda che è al di sotto del del logo quindi appunto nel negli anni 80 è stata integrata proprio alla scritta poi è stata separata per poi ritornare appunto ai tempi nostri che separata dalla scritta come era negli anni 70 quindi appunto di qua di là di su di giù poi alla fine si ritorna sempre a dove si era prima all'origine ecco fatto e una cosa interessante ce la voglian dire diciamo ce la diciamo ce la diciamo ce la nel 2013 la coca cola ha introdotto una cosa simpatica che tutti noi ci ricordiamo a meno che non siamo veramente giovani come te non lo sono così tanto come i ragazzi di dieci anni benissimo cosa è successo nel 2013 te lo ricordi 2013 è stato l'ultimo restyling del logo è successo una catastrofe è stata una cosa carina tu entravi all'interno di un supermercato vedevi il lo scaffale appunto dove c'era la coca cola e ti veniva da da prenderla come mai cosa avevano introdotto i nomi su mi ricordo sono profano ma esatto hanno introdotto questa cosa simpatica di inserire appunto di sostituire al logo il il nome di di battesimo della persona e oppure appunto anche dei dei modi di dire popolari ecco questa è stata una cosa molto simpatica anche una mossa abbastanza un azzardo perché comunque sono andati a a togliere coca cola gigantesca di inserire un nome di battesimo che se ti chiamavi in un nome strano ci rimanevi malissimo tipo genoveffa non c'è genoveffa immagino temo di no ma mi auguro che non ci sia nemmeno più qualcuno che si chiami così ci sarà qualcuno che sia genoveffa salutiamo tutte le genoveffa ciao genoveffa ebbene un'ultima curiosità attenzione incredibile allora cosa è successo in danimarca in danimarca è successa una cosa simpatica dei ragazzi di un'agenzia pubblicitaria di copenhagen che si chiama mcken hanno praticamente notato che nell'ultima o della del logotipo coca cola si poteva appunto riconoscere la bandiera della danimarca anche qui congetture così pare così pare voli pindarici esatto così pare e appunto hanno detto sai che c'è io sfrutto questa questa cosa sto leggendo che ci sono stati dei commenti su facebook ciao vittek tipo c'è Antonio DiCaprio che dice bravi bel format ciccioni dice Alessandro vittek ciccioni mentre Antonio DiCaprio penso sia stato inventato per combattere l'ingover la coca cola è possibile ma lo so può darsi che sia qualcuno intanto ride su instagram qualcuno ride su instagram ti dico su creativanda ciao creativanda ebbene ragazzi io perdo il punto no non perdiamo il punto continua allora praticamente questi ragazzi della mckenna agency di copenhagen hanno notato che appunto c'era la bandiera della danimarca nel logo wow allora ha detto chiaramente utilizziamo questa questa cosa quindi dato che si dice che la danimarca sia uno dei paesi più felici del mondo ci dovrei andare magari potrebbe anche quello che costa di più in assoluto comunque ecco fatto copnag benissimo ebbene dato che si dice che sia uno dei paesi più felici del mondo loro cosa hanno fatto hanno messo piazzato la pubblicità della coca cola all'aeroporto e inserendo appunto un inserto all'interno del logo con la bandiera della danimarca scritto benvenuti nel paese più felice del mondo ecco fatto quindi hanno sfruttato questa cosa a loro favore quindi la coca cola non serve solo per l'angover ma anche per farsi pubblicità vedi e farsi felici tra l'altro qui scopro facendo delle ricerche che tipo ci sono stati una cinquantina di slogan che sono susseguiti nei nei tempi e ce ne sono decine non so se poi voi ve ne ricordate qualcuno tuttavia di quello che mi ricordo comunque il brand è sempre associato al concetto di familiarità il natale se lo ricordiamo tantissimi spot ricordano esatto il natale c'era una un qualcosa legato al natale un aneddoto si dice che appunto la figura di babbo natale come la conosciamo oggi quindi anche con i colori rosso e bianco derivi appunto dal dalla coca cola ci sia stato un si sono si sono appropriati di questa esatto però in realtà non è vero almeno così anche ho letto su internet che non è vero perché in realtà appunto l'immagine di babbo natale così come la conosciamo c'era già ancora prima che appunto intervenisse coca cola quindi non non si sa non si sa è un mistero è un mistero è un mistero è un mistero bene abbiamo altro da dire questo diciamo è stata la prima puntata è anche una cosa molto sperimentale quindi dovete anche dirci cosa ne pensate se vi piace il format se elisabetta deve bere meno caffè la prossima volta meno coca cola ma che no a coca cola non l'hai bevuta purtroppo no non potremmo fare la pubblicità la coca cola coca cola se vuoi sponsorizzare questo poi ho sbagliato tutto è finito malissimo ma però è interessante questa cosa se andate a vedere l'ultimo post sull'istituto italiano di design vedete anche proprio le scursus delle modifiche apportate al logo ci sono stati cambiamenti veramente strani nella fine dell'ottocento soprattutto poi diciamo che si è stabilizzato l'ultima cosa interessante è riguardo il design delle bottiglie di vetro ok è una cosa fighissima perché se andate a vedere il primo prototipo della bottiglina di vetro della coca cola aveva richiamava sostanzialmente alla forma del baccello di cacao infatti quella forma diciamo un po' bombata della bottiglia adesso poi magari la prof di packaging potrebbe uccidermi per il mio gergo ma come mai scusa è perché questo primo prototipo che risale al 1916 richiamava proprio a questo a questa forma ed era un oggetto proprio di collezionismo infatti ci sono tantissime varianti ma non c'è scritto se c'è un motivo per il quale hanno preso proprio il riferimento non ho idea non credo se magari i nostri ascoltatori lo sanno le bottiglie contour si chiamavano hanno una forma particolare appunto che è anche un marchio registrato e che dicono che richiami poi anche le curve anatomiche di quest'attrice my west che indossava un abito aderente detto anche hobble skirt quindi andate a vedere se questa my west era effettivamente una donna avvenente o meno noi non lo sappiamo è proprio quella forma non lo so ma in altri tempi queste forme così un po' bombate tiravano molto di più elisabetta adesso c'è questa moda dello skinny ma a noi non interessa in questo momento quando faremo un programma sul fashion design parleremo di questo e niente poi l'ultima cosa è che questo bellissimo contenitore che aveva la forma appunto di baccello di cacao che venne prodotto poi nel 1916 non è stato usato poi perché non si poteva produrre e replicare attenzione e quindi la pepsi tentò di replicarlo hai capito quindi la pepsi che era il competito perché al momento in quel periodo non c'era la tecnologia per rifarlo in serie e la pepsi poi negli anni successivi è riuscito a produrla però poi c'era questo copyright ci fu una battaglia legale insomma sempre una battaglia poi parleremo anche della pepsi parleremo anche di battaglie legali l'ultima cosa è che l'ultima cosa è che questa forma la ritrovate però anche nelle bottiglie pet non quelle degli animali c'è nelle bottiglie di plastica c'è questa forma se la se ci fate caso ma questa che sto vedendo esatto questa che voi non potete vedere ma non ci assomiglia tanto non mi puoi contraddire davanti ai nostri ascoltatori io dico che si vede va bene ecco qui nasce la di atriba sul design ok detto tutto penso che insomma ci siamo abbiamo detto un po' tutto sulla pepsi sulla coca cola benissimo sono compuso anche sul nome è stato abbastanza divertente la prossima volta di cosa parleremo hai avuto già ci hai pensato ci hai pensato forse di di amazon però a questo punto magari di pepsi e continuiamo il discorso non lo so rimaniamo nel beverage vedremo magari alterniamo alterniamo va bene è stato bellissimo e seguite questo podcast lo troverete su spreaker saluto mio padre che sta guardando saluta salutiamo le famiglie che seguono da casa la nonna come si chiama la nonna nanda nanda tipo tv generalista ballando sotto le stelle abbiamo detto tutto potete seguire questo podcast sia su spreaker sul nostro canale spreaker e a brevissimo anche su spotify e itunes quindi potete abbonarvi e ricevere malauguratamente ogni settimana questo podcast ok è stato bellissimo grazie elisabetta grazie per questa cultura generale e alla prossima risalutiamo tutti mentre chiudiamo la diretta ciao nona nanda ciao nona nanda